Amici di San Paolo Show, edizione stranordinaria per voi. Nei giorni scorsi è stato suggellato un patto tra De Laurentiis e la squadra del Napoli. Noi, l'edizione stranordinaria, siamo entrati e possiamo riferirvi tutto quello che è accaduto in questo patto all'Hotel Vesuvio. Eccolo, accomodatevi, prendete posto, siamo tutti quanti giocatori, titolari, allenatore, mister. No, 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 niente cameriere, non cominciamo a chiamare cameriere, non siamo qua per mangiare. Eh no, venite, se magna, mi dispiace, no. Iguain, Bono, che sta a mangiare ancora? Non ti bastano i gol che ti sei magnato contro il Dnipro, oh caro Iguain detto Pipita? Allora, siamo qua per un altro motivo, vi voglio parlare. Io per voi sono un padre e come tale devo trattarvi. Allora, vedete, questo è il mio piano, questo è il mio piano. Fate questo e lo fate per me. Io che volevo alzare il calice della vittoria e brindare per poi andare in Champions, questa cosa mi è stata negata, per colpa vostra. Allora vi voglio di questo. Prima che l'arbitro fischi tre volte, voi dovete sudare la maglia, la dovete sudare, chiaro? Eh no, Iguain, eh, Iguain, ti voglio ricordare che tu non mi puoi tradire, non puoi venire meno. Eh, tu hai una, eh, trentami, trentami, Iguain sono trenta milioni che te do e tu non puoi fare questo. E allora, mi raccomando, questo è il patto per le prossime tre partite e poi vediamo. E' chiaro, non si mangia, no, non si mangia, è che stiamo sempre a mangiare. Facciamoci questa fotografia e basta. Andiamo tutti in posa, un, due, tre, vai. Andiamo tutti in posa, un, due, tre.